A seguito del video che avevamo proposto a spiegazione dei vaccini anti Covid-19, sono arrivate alla nostra attenzione una serie di commenti e domande con la richiesta di spiegare forse un pochino meglio alcuni aspetti. Proverò a rispondere in maniera discorsiva ad alcuni di questi inviti. Per chi vive nel mondo delle malattie infettive da molti anni sa, non è una novità avere l'informazione che i virus mutino. In realtà lo sappiamo tutti perché tutti gli anni noi sappiamo che con il virus dell'influenza dobbiamo cercare di capire quanto simile o quanto diverso sia da quello dell'anno precedente per poter aggiustare il vaccino dedicato all'annata in questione. Sappiamo anche che proprio i virus ad RNA, come è SARS-CoV-2, sono tra i più veloci a mutare. Allora giustamente uno dice che senso ha che io mi vaccini se poi il virus che circola è diverso? Perché in realtà le mutazioni, almeno quelle che sono state descritte finora per il virus che adesso è di nostro interesse, riguardano piccolissimi frammenti dell'informazione del virus, anche su questa proteina spike, piccolissimi frammenti della proteina che non inficiano, non cambiano l'efficacia dell'intera progettazione vaccinale nei confronti della protezione verso l'infezione del virus. Ecco che allora sarei completamente sereno nel dire allo stato delle conoscenze attuali il vaccino che ci viene fatto ci protegge anche dalle varianti che fin qui sono state descritte. Lo dicevo nel video precedente, lo ripeto anche qui, un vaccino come questo che utilizza un RNA messaggero non può in alcun modo interferire con il DNA nativo dell'organismo, dell'individuo che lo riceve perché i due sistemi non riescono a dialogare tra loro perché non abbiamo noi gli strumenti perché questo possa avvenire. In più il nostro DNA è proprio protetto in quel santuario della cellula che si chiama nucleo ed è inarrivabile da parte dell'RNA che peraltro si degrada anche molto velocemente e una volta compiuto il suo dovere è già sparito dalla circolazione. Una volta che si è stati vaccinati, questo è un altro tipo di domanda, si è contagiosi nei confronti di coloro che si incontra, la risposta è assolutamente no per un semplice motivo, quello che viene inoculato con la vaccinazione non è il virus SARS-CoV-2 che causa la Covid-19, ma è un piccolo frammento di informazione per costruire una proteina di superficie del virus, proprio un pezzettino del suo involucro esterno che non è il virus stesso, la parte non è il tutto e non è capace di trasmettere la malattia. Quindi sicuramente il soggetto che la riceve non può ammalarsi di questa malattia e non può essere fonte di malattia per colpa del vaccino nei confronti delle persone che incontra. Cos'è che però dobbiamo tenere in conto? Che non è sufficiente ricevere solamente la prima dose del vaccino per essere immuni, bisogna attendere 8 giorni dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, che è 21 giorni dalla prima per quanto riguarda il vaccino della Pfizer-BioNTech e 28 giorni per quello di Moderna. Tra la prima è la seconda dose può capitare che un individuo si infetti con SARS-CoV-2 e sviluppi la malattia Covid-19. Quella persona è infetta ed è infettante nei confronti delle persone che incontra. Ma lo capiamo, non per colpa del vaccino, ma perché non essendosi ancora strutturata la risposta protettiva verso il virus ha fatto in tempo ad ammalarsi ed è come chi non è ancora stato vaccinato. Dopo che sono passati questi famigerati 8 giorni dalla seconda dose, l'unica cosa di cui siamo sicuri è che il 95% circa delle persone che sono vaccinate sono protette nei confronti della malattia, cioè non svilupperanno la malattia o quantomeno non la svilupperanno nelle forme gravi che potrebbero condurre a morte. Ad oggi sulla base dei dati che abbiamo non possiamo dire nulla sulla trasmissibilità del virus da parte di un vaccinato. Mi spiego appena appena un pochino meglio. Se io sono stato vaccinato e ho prodotto i miei anticorpi sicuramente se mi becco il virus non mi ammalo. La domanda è ma se io becco il virus anche se non mi ammalo io posso far ammalare qualcun altro perché sono comunque in grado di trasmetterlo, quel virus che ho incamerato, che ho beccato, la speranza è di poter dire no. Il vaccino blocca anche la trasmissibilità del virus, ma per poter rispondere a questa domanda dobbiamo attendere qualche tempo. Allora i più cauti potrebbero dire perché non abbiamo aspettato un pochino di più per mettere in commercio il vaccino e avere una risposta a questa domanda, perché trattandosi di un'emergenza di sanità pubblica a livello mondiale è parso sufficiente a tutti avere come obiettivo salvare immediatamente delle vite umane piuttosto che aspettare ogni singola risposta ad ogni singola domanda e credo dal mio punto di vista che si tratti di una scelta più che giustificabile. Automaticamente in questo modo io credo che abbiamo capito anche perché non possiamo toglierci subito le mascherine e affrancarci subito da tutte le regole di contenimento della diffusione del virus proprio per il fatto che non siamo sicuri che venga bloccata la trasmissibilità. Lo speriamo davvero tutti quanti e siamo tutti pronti a ridurre questa nostra particolare attenzione nei confronti della diffusione del virus qualora i dati siano assolutamente a favore di questa teoria. Possono essere vaccinati anche individui che hanno nella loro storia la presenza di difficoltà respiratorie, asma, bronchiti croniche e via dicendo o ci sono delle attenzioni particolari che veniva chiesto. In realtà paradossalmente questa è una delle motivazioni che dovrebbero spingere ancora di più alla vaccinazione perché essendo che il virus colpisce primariamente soprattutto le vie respiratorie sono proprio i più deboli da quel punto di vista che devono essere tutelati perché probabilmente tollererebbero molto meno bene di altri gli effetti sul polmone e sull'apparato respiratorio del virus stesso. E che dire poi di coloro che hanno già passato la malattia? Ha senso che si vaccinino? Questa è una buona domanda e sono un po' spiaciuto nel dare la risposta che sto per dare, però tant'è, purtroppo sì, perché si è visto che l'infezione con il virus SARS-CoV-2 non produce un'immunità permanente ma produce degli anticorpi che nell'arco di alcune settimane o alcuni mesi pian pianino diminuiscono fino praticamente a sparire e a lasciare l'individuo suscettibile a una reinfezione. Si è ragionevolmente tranquilli nel dire che la reinfezione nei primi 90 giorni da un episodio di Covid-19 è più che eccezionale, di solito non capita. e prudenzialmente si vaccinano con il vaccino le persone già contagiate che siano negativizzate da almeno 30 giorni. Questa è l'unica condizione che viene posta. Però sì, anche chi ha passato la malattia naturale ha bisogno della vaccinazione per prolungare l'effetto della protezione e la presenza degli anticorpi protettivi. Quanto dureranno poi gli anticorpi protettivi? Quanto ci proteggeranno? Anche questa è una delle domande alle quali riusciremo a rispondere solamente strada facendo. non c'era il tempo, non ci siamo potuti permettere il tempo di aspettare a vedere, di avere la risposta a questa domanda. Urgeva molto di più l'idea di salvare vite umane, perché la posta che è stata chiesta è risultata a tutti troppo alta rispetto a quello che avremmo pensato di dover pagare. D'altronde anche con il virus dell'influenza e col vaccino anti-influenzale ci siamo abituati da tempo a dover fare una vaccinazione annuale. Chi lo sa? Io di sicuro oggi non lo so. Anche SARS-CoV-2 e Covid-19 saranno destinatari di una vaccinazione che dovrà essere ripetuta periodicamente, magari ogni anno? Forse sì, forse no. Lo sapremo solamente con un po' di pazienza e strada facendo. Adesso che non abbiamo più solo Pfizer, ma c'è Moderna e fra poco speriamo possano arrivare anche Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson, chi lo sa fra qualche mese anche reitera tutto italiano. Posso sceglierlo io? Dice il vaccino che mi viene fatto? La risposta la dico anche un po' sorridendo è no, per il semplice fatto che di solito la scelta su una particolare tipologia di vaccino piuttosto che su un'altra è governata da delle indicazioni medico-farmacologiche molto chiare e quindi è una scelta che eventualmente qualora si ponesse spetta solamente al medico con il quale si farà il colloquio, la discussione prima della somministrazione del vaccino. Qualsiasi farmaco, quindi anche un vaccino, per poter essere messo in commercio deve superare in successione alcune fasi sperimentali. Nella prima fase si provano a testare gli effetti di quel particolare farmaco sulle cellule in vitro in laboratorio. In un secondo momento si passa sull'animale di laboratorio per essere certi che non ci siano eventi macroscopici che possano poi essere pericolosi per l'uomo e in secondo luogo si arriva alla sperimentazione sull'uomo su piccoli numeri di soggetti volontari per il test in vivo del farmaco stesso, nel nostro caso del vaccino. Una volta superata la fase con un piccolo numero di persone si arriva alla cosiddetta fase 3 della sperimentazione che è quella che riguarda grandi numeri di volontari nell'ordine di diverse migliaia che permettano di raggiungere una volta fatta la valutazione statistica sui risultati un risultato significativo, cioè che non sia dovuto al caso. Per qualsiasi farmaco una volta superata la fase 3 si apre la possibilità della commercializzazione perché la cosiddetta fase 4 che guarda caso si chiama anche fase di post marketing può avvenire solamente dopo che il farmaco, nel nostro caso il vaccino, comincia ad essere utilizzato da amplissimi settori della popolazione. Allora qui passiamo dalle migliaia di persone ai milioni di persone attraverso tutto il circuito della farmacovigilanza, quindi segnalando tutti gli eventi avversi che possono avvenire, si acquisiscono informazioni sulla efficacia e sulla sicurezza del prodotto messo in commercio e si possono in linea di massima confermare tutte le previsioni della vigilia. In qualche caso si potrebbe anche arrivare alla sospensione, lo ripeto, post marketing, cioè dopo la commercializzazione del prodotto, perché vengono alla luce fatti che non era stato possibile identificare o svelare durante le precedenti fasi della sperimentazione. Ma questo non significa, non toglie nulla alla bontà del processo che è stato seguito passo a passo per arrivare a far sì che tutto venga eseguito e proposto alla popolazione a regola d'arte. Io conto comunque che continuiamo tutti positivamente a vedere bene questo inizio di campagna vaccinale, a aspettare con fiducia il nostro turno e a rispondere prontamente sì ci sono quando veniamo chiamati.